Abbiamo deciso di fare questa giornata per confrontarci con altre società fuori dal nostro territorio, quello lombardo, e quindi di confrontarci con una squadra del Veneto dove il livello è molto alto e soprattutto anche per intraprendere una collaborazione con una società amica. Inoltre per noi è un ottimo momento per preparare le fasi regionali che ci attendono nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. La stiamo vivendo veramente come un'esperienza unica, ho visto i ragazzi entusiasti dell'ambiente, del palazzetto, della disponibilità che abbiamo trovato sia per il pranzo che per l'allenamento. E quindi cerchiamo di vivere come una grandissima occasione, una fortuna di essere qui, a trovarsi contro una delle migliori in realtà giovanili d'Italia. Quindi speriamo di servire qualcosa anche alla squadra che ci ospita, visto che ci fa questo grosso favore di ospitarci una giornata spiegale. Stiamo abbastanza bene, siamo riusciti a portare a casa il primo impegno della fase regionale, per noi era molto importante. Adesso ci aspettano due partite molto toste con Val Trompia e Spazio Fitness di Cremona, ma speriamo di affrontarle al meglio per poterci qualificare per la seconda fase regionale. Noi a gennaio abbiamo cominciato la fase regionale, campionato duro per noi, campionato di eccellenza che comincia a gennaio ed è di sola andata. Al momento occupiamo la quinta posizione, siamo ancora matematicamente in corsa per le prime quattro posizioni, quindi spero che i ragazzi continuino a non mollare così, a trovare soluzioni ai problemi, agli infortuni come hanno fatto fino adesso. Al prossimo episodio